Erano stati accusati di aver offeso in concorso la reputazione di Luciano D'Alfonso quando il medesimo era presidente della regione Abruzzo, pubblicando su un social network un articolo di un quotidiano online con svariati commenti diffamatori. Protagonisti della vicenda finita in tribunale, due cittadini di Archie e di Atessa, che in primo grado, seppur assolti dal reato di diffamazione perché non punibile per particolare tenuità del fatto, le aveva condannate all'integrale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Luciano D'Alfonso che in quel procedimento si era costituito parte civile difeso dall'avvocato Carla Tibone del Foro di Pescara. Il giudice del Tribunale di Lanciano, Maria Teresa Pesca, aveva stabilito nei confronti dei due e di un terzo soggetto la revusione delle spese di costituzione di difesa di parte civile stabilita in 1.800 euro. La vicenda risale al 2017. Ieri, dopo la sentenza di primo grado depositata all'8 novembre 2022, la Corte dell'Appello dell'Aquila, a cui due dei tre imputati si sono rivolti, appellando dunque alla sentenza del Tribunale di Lanciano, ha confermato la condanna di primo grado condannando al pagamento delle ulteriori spese del secondo grado l'uomo di Atessa ed assolvendo però il cittadino di Archie. Dal reato ha scritto perché il fatto non sussiste, revocando dunque le statuizioni civili relative al medesimo.